Fratelli rossonieri e amici rivali di YouTube, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti amici. Allora, voglio parlare di una cosa. Visto che ci avete rotto le palle per tutta l'andata, la rigorista, la rigorista, la rigorista, bla bla bla, volevo soltanto fare presente ad alcuni amici che quando viene fischiato un fallo di rigore, è perché anche, cioè, vengono fischiati diversi falli di rigore per una squadra e ci sono praticamente tutti, a parte uno di Giacomelli che prima ce ne ha dato un rigore a loro che era fallo per noi, quindi ha dovuto ricompensare, poi gli altri, c'erano tutti. Sapete anche perché adesso abbiamo meno rigore? Primo perché non ce li fiscano più, però abbiamo molte, ma molte, molte, molte meno occasioni rispetto all'andata. All'andata andavamo dentro come dei tre inducenti all'ora, induci il difensore comunque sia a far fallo. Appunto questo qua è semplice. Comunque parlando di correttezza in realtà, a me sembrano tre arbitri. Il signor Maresca, da Parma Mila, non ha più arbitrato. Quindi penso che si siano accorti che forse, sai, ci potevamo anche condizionare in maniera troppo lampante una stagione, il presuntuoso Maresca. Il signor Pasqua di Nocera, l'hanno mandato in B, ad arbitrare in B. Il signor Pasqua di Nocera, clamorosamente campano e napoletano, mandato in un big match che per noi era fondamentale. Non va a tischiare il novantesimo, un rigore spappolato su Tio Hernandez. Non l'hanno addirittura fatto più arbitrale. Il Satana di Schio, il signor Orsato, il boss, il grande boss, adesso andrà a fare il quarto uomo. Casualmente andrà a fare la messa a fare il quarto uomo. Teniamo presente che sabato viene il signor Calvarese, che mi auguro che abbiamo otto difidati, che non inizia a fare il cinema, non inizia a fare il protagonista. Io mi auguro davvero, perché poi sapete che la settimana dopo ci sono quelli lì di Torino. Io li farei giocare con la mascherina sabato, perché sono convinto che alla prima protesta subito partiranno già, io me lo sento già. Me lo sento già, non voglio portare sfiga, ma me lo sento già. Quindi invito comunque sia la federazione degli arbitri calcio a far capire a questi signori l'importanza di queste ultime partite, ma non soltanto per noi, anche per quelli di Torino, anche per i Napoli, per quelli di Bergamo, per la Lazio che sta venendo sotto anche lei. Mi fargli capire... Sì, sì, arrivo! Mi fargli capire l'importanza e la delicatezza che devono avere in queste ultime partite, perché un errore può veramente... Vieni, vieni qua, vieni qua, Fiorenzo. Vieni, vieni qua, Fiorenzo. Fiorenzo! E' sordo. Vieni qua. Che sto accendo il video. Fiorenzo, ti chiamerò anche il fondo di un cuoio. Te lo regalo io l'apparecchietto. Sono tre finanziari venuti a rapinarci. No, no, sono tre... Della Folletto, meno un aspirapolvere. Dicevamo... Vabbè, 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 sono un pochettino... Un amplifone... Cazzo, ogni volta lo chiamo, li parlo, ma sta valdezza qua. Infatti fa così, eh, ti fa morire da ridere. Però bravissimo, ovviamente, un pezzo di pane di persona. stavamo dicendo stavamo dicendo che spero che la federazione arbitri calcio, come cazzo si chiama veramente parli a questi signori con la divisa di non fare i protagonisti e soprattutto a quelli del VAR di stare belli svegli perché va bene che il controllaggio secondo me era molto probabile che anche se ci pescava fallo da noi al limite dell'aria e non validava il gol alla Lazio perché il fallo era spappolato io sono sicuro che facilmente avremmo perso però il pallone è rotondo chissà mai che magari li segnavano su punizione magari poi andiamo a vincere anche noi chi lo sa se vai a vederlo al VAR però e orsato tu che sei un professionista non con quelli anche di sopra non riconosce un'entrata su una caviglia netta che il pallone non l'ha neanche visto anche lì è stata una partita comunque sia condizionata ce n'è di di palle e quindi mi auguro questo visto che abbiamo otto diffidati si sa che vi giochiamo la partita dopo bene voglio soltanto farvi presente i tre che praticamente uno non arbitra più uno lo ha mandato in B e l'altro lo mandano sopra a fare il quarto uomo che non è abituato a fare il quarto uomo soltanto questo un apro e chiudo parentesi apro e chiudo parentesi punto ciao a tutti